La notizia ha di ieri che il gruppo francese Salinis è ormai addirittura ad arrivo per l'acquisizione delle saline di Margherita di Savoia, dopo aver acquistato il debito che la società Tisale, attuale gestore ha nei confronti di Monte Paschi di Siena, non ha lasciato indifferente il territorio ed in particolare il mondo sindacale e quello della politica. La società francese Salinis, leader mondiale nel settore salinieri, ad oggi non ha ancora presentato un piano industriale credibile, hanno tuonato in una nota Marco Gentile e Gaetano Riglietti, rispettivamente referente Fly CGL Nazionale e segretario generale Fly CGL Bat. Abbiamo appreso che alcune settimane fa i dirigenti della CIS, costola italiana della Salinis, spiegano Riglietti e Gentile, hanno fatto un sopralluogo nello stabilimento. I lavoratori di Tisale negli ultimi anni hanno assistito ad una esasperante situazione che ha visto l'azienda in concordato preventivo con tutti i sacrifici previsti in tali casi, tra cui la rinuncia ad un premio di produttività e ad alcuni altri elementi economici. Al contempo anche la sicurezza è stata messa sotto accusa dall'ispettorato del lavoro, ricordano dal sindacato. La Fly CGL Nazionale e territoriale chiede che vi sia definitivamente un piano industriale che contempli la messa in sicurezza degli impianti, il loro ammodernamento e soprattutto la tutela degli attuali livelli occupazionali, chiedono Riglietti e Gentile. Servono investimenti ma anche nuove assunzioni su questi punti. Non ci saranno sconti per nessuno, chiude la nota del sindacato. Richieste chiare circostanziate, quelle della Fly CGL, per una salina come quella di Margherita, che conta circa 150 dipendenti ed un importante indotto. Ma le saline rappresentano per la Puglia non solo la produzione di sale, ma anche un patrimonio paesaggistico di straordinaria importanza. Ed è proprio su questo che si è concentrato l'intervento invece di Francesco Ventola, consigliere regionale di direzione Italia. Il sale, spiegare in una nota ventola, è di proprietà dello Stato e sapere che ora tutto questo sarà nelle mani di una società francese mi rammarica molto. In più l'acquisizione della francese Salinis non è avvenuta improvvisamente, spiegaventola, si sapeva dell'interesse del colosso del sale d'oltre Alpe e sinceramente speravo che la politica regionale e nazionale intervenisse per evitare che i francesi comprassero all'asta del Monte dei Paschi di Siena i debiti deteriorati che la società italiana Lattisale aveva accumulato. Lo stesso consigliere regionale di direzione Italia ha rimarcato poi il silenzio nel quale è avvenuta questa cessione. Ci piacerebbe sapere se le istituzioni italiane siano state interpellate prima che ci fosse l'asta, ha detto il consigliere regionale Ventola, e quante società hanno partecipato all'asta e cosa accadrà soprattutto ora agli oltre 150 lavoratori. Il sale è un prodotto strategico sul piano nazionale e la Puglia, che include Ventola, ne possedeva la produzione e la gestione. Grazie. 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 Grazie.